Buonasera Dutch, benvenuto a Sherwood Festival, è la tua volta numero 2 e da partecipante? No esatto, da partecipante è la volta numero 2, da cittadino è la volta numero uncountable. Allora, che rischio c'è che i cori da sdraio diventino soliloquio da lettino? Sono entrambe le cose secondo me, ovviamente il titolo del disco è un wordplay, il cori da stadio e ti viene in mente un gioco di parola, una formula e poi c'è un periodo di assestamento in cui lo bilanci e pensi a come potrebbe essere adatto e quindi poi si creano vari layers del motivo per cui ti piace quel titolo lì. Mi piaceva la cori da sdraio un pochettino perché l'idea mi è venuta nel 2020 o 2021, comunque nel periodo del covid più prepotente, a un concerto al Magnolia che avevano messo le sdraio perché bisogna stare seduti e quindi erano un po' i cori da sdraio, quindi era un po' l'idea delle canzoni scritte durante il periodo dell'esdraio con la speranza di poterle poi suonare a un pubblico in piedi assembrato che per adesso ci stanno lasciando fare. E poi appunto era anche, mi piaceva la contrapposizione con i cori da stadio che sono per definizione diciamo una musica sloganistica con praticamente nessuna attenzione alla composizione melodica che viene rubata dai tormentoni e con un contenuto nei testi molto assoluto, cioè molto a tratti violento, comunque noi siamo dei grandi, voi siete dei coglioni, zero dialogo, è a posto. E quindi mi piaceva la contrapposizione, cioè l'idea di una musica che in realtà contempla il dialogo, che contempla il dubbio, che contempla la riflessione. Però contemporaneamente c'è molto mutismo in giro perché forse l'esdraio si trovano anche all'ultima spiaggia sotto certi aspetti, anche una certa fascia, cifra pessimista all'interno di alcuni testi lo lasciano trasparire. Diciamo che io ho una componente malinconica che fa parte della mia persona e che quindi ovviamente metto nelle canzoni e quella cosa lì si può mescolare con il pessimismo che secondo me un pochettino è aumentato anche in questo rischio rispetto ai precedenti perché è aumentato nella mia persona rispetto agli anni precedenti, però non necessariamente, nel senso che la malinconia è un sentimento che guarda il passato con dolcezza e quel passato a cui guardi con dolcezza ti può indicare la via per il futuro, quindi non è necessariamente pessimismo. Quella cosa lì però capisco cosa intendi. Padova è per te un topos più che letterario, è un topos di vita e fra l'altro ci sono dei luoghi anche abbastanza ricorrenti per forza di cose nei tuoi pezzi, c'è qualche luogo del cuore, anche senza includere Sherwood, che manca ancora nei tuoi testi? Questa è una bella domanda, la zitta, i poignini della zitta che però ho coinvolto in un videino che abbiamo fatto per la promo sui social del brano Anime Stanche che io mi sono fatto una lista delle persone che artisticamente stimo, alcune delle persone che artisticamente stimo su Padova e li abbiamo incontrati, gli abbiamo fatto sentire la canzone, abbiamo filmato la loro reazione mentre l'ascoltavano e secondo me quei panini che fa la zitta, sto parlando ovviamente di una paninoteca che è vicino al Pedrocchi, tra il Pedrocchi e Piazza della Frutta e che ha una location come direbbe borghese molto caratteristica perché è un posto molto piccolo con una parete ricoperta di bigliettini scritti a mano con i vari panini, quindi ha 100.000 panini con 100.000 nomi e 100.000 combinazioni di ingredienti e quei panini secondo me sono un'opera d'arte, come i romanzi di Carlotto almeno come i graffiti di Joyce, quindi l'ho coinvolto, però non ho ancora parlato di una canzone effettivamente. Alla fine la restituzione forzata dei tupperware all'interno del tuo brano diventa un po' quel legame, quell'hotel California igolsiano che non ti permette mai veramente di lasciare il posto nativo. Cosa ti manca a Milano? Non inteso più come posto. Lo spritz, cioè lo spritz che non costi 8 euro, quando torno a Badova e uno spritz costa 2,50 o 3,50 se proprio proprio te lo danno in una pentola e mi piange il cuore di felicità. Allora improvvisa, POV, hai appena scoperto che il tuo vicino di casa è il pluricentenario che ha inventato il Cinar? Ok. Ah, che di Padova giustamente, ma sai che mio nonno, padre di mio padre, era un rappresentante della Cinar di lavoro. Beh, spero che apprezzi la combinazione con il Campari, il Prosecco e l'acqua frizzante, perché secondo me è molto padovano quello spritz lì e sarei molto contento di conoscere l'inventore del Cinar. Sono un sacco di cose che ci chiede l'Europa, come hai detto tu stesso qualche anno fa, e l'Europa ci chiede di bloccare l'obsolescenza programmata alla fine. Poi chiedi di fare attenzione al tuo cuore che non è in garanzia. Puoi fare un appello per una maggiore sostenibilità emozionale? Cioè, quindi un appello contro l'obsolescenza dei sentimenti. Beh, certo, a questo punto c'è. Beh, esiste un tema sul consumismo dei sentimenti, no? Quando si dice, quando si dice, è una volta, le coppie, si mettevano insieme e stavano insieme tutta una vita, no? E che molto probabilmente in molti casi è una conquista di indipendenza intellettuale, di avere la possibilità sociale che è stata conquistata da qualcuno di dire, senti, non voglio più stare con quella persona, divorziamo. Però un pochettino anche esiste, secondo me, un tema di consumismo anche in questo campo qui e quindi facciamo un appello contro il consumismo dei sentimenti. Bene, allora io direi che c'è tempo per un'ultima domanda. Sta tornando un po' l'emo in molti campi e probabilmente anche aiutati da una situazione che non aiuta tantissimo l'ottimismo e aiuta probabilmente più anche chi deve sistemare capelli e frange più lunghe o tristi dell'esistenza. In questo mondo c'è anche un rap sempre più conscio, sempre più attento, perlomeno in Italia, al di là di altri tipi di fenomeni però hanno tutta una loro sfera, tra virgolette. Una sfera? No, non era voluto assolutamente, giuro. Però c'è anche un'attenzione maggiore, penso a tante cose che stanno venendo veramente fuori, finalmente emergono. Penso a un modder, penso a tantissime persone. Che cosa ti sta piacendo ultimamente? Allora, secondo me comunque l'emo sta tornando in salsa rap, perché la crew che sta un po' spaccando a quel livello lì è la SED, che tra i suoi membri ha Fix, che rappa da... io ho presente Fix quando eravamo agli inizi della massima tacchezza e faceva le sue canzoni e un po' non se lo creava nessuno e lui ha mantenuto quello stile lì e il mondo è arrivato da lui praticamente. È un paragone un po' forzato, però un po' come Bello Figo, che faceva le sue robe, tutti ridevano e poi adesso lui ha continuato a fare le sue robe e il mondo è arrivato lì. Dal punto di vista di chi mi sto ascoltando, tanta roba, non è rap quello che ti sto dicendo, però diciamo che è un po' un flex, un po' dovano, cioè post nebbia, di cui abbiamo ascoltato il nuovo disco in macchina io e Siket venendo qui, che è un fenomeno e un super orgoglio locale. Invece un po' più rap, tante robe, poi quando mi fanno questa domanda qui non mi viene mai in mente un'ora dopo, penso, avrei potuto dirgli quello, però sulla punta della mia mente mi viene in mente Ugo Crepa, che è sto ragazzo vicino a Napoli, Marigliano, che l'ho scoperto, che mi ha scritto su Instagram per chiedermi un featuring e io gli ho risposto quello che rispondo sempre in quei casi, cioè ascolto molto volentieri la cosa, però io i featuring li faccio o con persone molto amiche o con persone di cui sono fan, ma quasi sempre con entrambe le cose contemporaneamente. E poi, e quindi grazie mille, adesso mi ascolto la roba, grande, e in bocca al lupo per tutto. Poi sono salito in macchina per andare da Boots, dove andavo a cena con gli altri della Magstack quella sera, nel tragitto in macchina da casa dei miei genitori a casa dei Boots, che sono 25 minuti, ho messo il suo Spotify e quando sono arrivato ho preso il telefono e ho detto bro, scusa, non lo sapevo, adesso lo so, sono tuo fan, quindi vale, facciamo il featuring. Esce il pezzo con lui, esce dopo domani, però ci sono già molte canzoni sue su Spotify e Spac. Ugo Crepa. Molto bene, grazie Daccio e benvenuto e bentornato a Sherwood 22. Bentornato a Sherwood 22. Esatto, bentornato Sherwood. Grazie. Grazie.